Ci troviamo davanti alla scuola Leonardo Sciascia di Caltanissetta. Qui c'era il problema delle menze scolastiche che non riguardavano alcune classi. Dopo una lunga battaglia da parte dei genitori e con l'apporto anche del Movimento 5 Stelle, dal 1 ottobre partirà la menza scolastica anche per due classi che erano state escluse, una prima e una seconda. Quindi alla fine la lotta porta a qualcosa. Ma meno male, sì. Devo dire che questa è stata una battaglia portata avanti dalle famiglie. Noi solamente ci eravamo accorti che c'era qualcosa che non andava già in Commissione Trasparenza nel mese di giugno. Io ho evidenziato questo grave problema perché era una grande ingiustizia sociale quello che stava accadendo e devo dire che poi hanno fatto tutte le famiglie perché noi siamo stati solo da stimolo. E quando c'è una cosa importante, un'idea importante da portare avanti e le persone si uniscono e poi alla fine ce l'hanno vinta. Signora, suo figlio che classe frequenta? La prima... Ed era stata esclusa la menza. Ed era stata esclusa la menza. Il problema era questo. La menza era stata esclusa per 56 famiglie avendo diritto di far parte del prolungato. A me dispiace soltanto una cosa. Il prolungato non parte per tutte le 56 famiglie. Parte soltanto per una classe. Però ci sono anche famiglie che hanno abbandonato la lotta. Noi siamo stati molto tenaci e molto testardi perché abbiamo creduto sin dall'inizio che questa era un'ingiustizia sociale bella e buona. Anche perché noi dovevamo pagare per intero quando ci sono famiglie di Caltanissetta che avrebbero fatto uso dell'ISEE. Quindi capite che l'ingiustizia ci stava. Quest'intervista serve soltanto ad una cosa. A ringraziare soprattutto i genitori che hanno creduto in questa lotta. Perché se non fossimo stati tenaci e se non avremmo creduto che stavamo subendo questa ingiustizia noi non avremmo vinto questa lotta e come sempre avremmo come dei pecoroni pagato l'elior a 4,60. Ma siccome la tenacia è stata, è durata tutta l'estate, abbiamo avuto un'estate molto rovente, abbiamo vinto la lotta. Ma quindi, mi scusi, i genitori della classe che avete lottato avete ottenuto la mensa scolastica e l'orario prolungato mentre quelli che hanno mollato niente fuori? Sono fuori da questo tempo prolungato perché purtroppo hanno mollato e non si potevano formare altre classi. Quindi bisogna protestare per ottenere qualcosa? Dovrebbero protestare loro, dovrebbero continuare loro la lotta. Noi la nostra lotta l'abbiamo fatta, l'abbiamo vinta e per fortuna abbiamo i figli al prolungato. E di questo devo ringraziare i genitori, la dirigente che ci ha sostenuti tutta l'estate con riunioni, incontri, liti, punti di vista diversi ma che poi siamo arrivati ad un unico punto di incontro che era quello che si doveva vincere questa lotta. E il signor Magri che gentilmente ci ha sostenuto per tutta questa lotta credendo in noi e per prima lui ha creduto che era un'ingiustizia che non dovevamo subire. Ci è stato vicino, molto vicino e grazie a lui oggi possiamo dire che abbiamo vinto la lotta.